cerca bentornati sul mio canale youtube oggi nuova review stavolta a tema future stars ma team 2 e infatti andiamo a vedere insieme come si comportano in game lesbc di loren emp ma soprattutto quella di roberto baggio partiamo da loren emp calciatrice inglese del manchester city un metro e 64 per lei alto alto il suo work rate 4 stelle skill 4 piede debole piede preferito sinistro e tipo di accelerazione quindi l'accelerate explosive andando ad analizzare già questa prima schermata la cosa che mi viene da dire su questa giocatrice è che manca di quel quid che le potesse far avere la caratteristica in più rispetto ad altri giocatori che al momento sono presenti nel gioco perché il 4 stelle skill la pone in una posizione di calderone totale dove ci sono altri centinaia di giocatori così stesso discorso per quanto riguarda il piede debole poi parliamo di una giocatrice che dovrebbe fare come ruolo principale l'esterno sapete quanto io reputo importante nel ruolo di esterno la quinta skill perché la suola e lo scoop turno è una combinazione di ammosse abilità che rende i giocatori molto imprevedibile vi permette di poter convergere subito verso il centro mentre state andando sulla fascia quindi questa mancanza per me è molto grave ma è molto grave visto che stiamo parlando di una sbc dal costo non esiguo visto che questa giocatrice costa quasi 600 mila crediti quindi diciamo che già da queste caratteristiche mi hanno fatto un po storcere il naso andiamo a vedere poi quelli che sono i ruoli perché può fare la s e le s quindi in termini di ibridabilità non è che ci sta questa grandissima alternativa accelerazione 95 velocità scatto 95 vi posso dire che secondo me sono un parametro un po fake fake perché abbinato ad un body type tremendamente piccolo vi dicevo un metro e 64 quindi sul lungo fa fatica a prendere velocità soprattutto quando si ritrova poi in campo aperto è facile che venga recuperata dai difensori avversari se sono molto grossi perché magari lei è più veloce ma loro con due passi ne apparano dieci suoi quindi praticamente il divario che c'è a livello statistico viene compensato da quello fisico quindi questa è stata un'altra cosa che della emp non mi è piaciuta finalizzazione 84 potenza tiro 92 tiro dalla distanza 77 anche qua sono dei parametri abbastanza normali per questa giocatrice perché la finalizzazione in particolar modo davanti la porta non mi ha convinto anzi l'ho trovata molto discontinua ci sono delle volte che ingarra dei gran gol e alle volte che a tu per tu spara addosso al portiere o si mangia dei gol in maniera clamorosa cross 97 con effetto 91 non vi sto neanche a dire che abbinato al playstyle plus del passaggio teso questa mette dei cross fantascientifici ma perché quel playstyle penso sia il playstyle più automatico di questo gioco chiunque lo abbia basta schiacciare cerchio e cross arrivano all'interno dell'area di corre precisi e perfetti bene anche passaggi corti 86 e il lungo 84 agilità 96 equilibrio 97 reattività 92 questo è il gigantesco punto di forza di questa carta che palla al piede fa quello che vuole con i micro movimenti è una roba allucinante se siete bravi a muovervi nello stretto praticamente potete dribblare tutta quanta la difesa così togliendo il tasto della corsa e facendo quei micro passettini ai quali siamo abituati sul posto soprattutto anche per dribblare il portiere la cosa che però nelle statistiche di dribbling mi lascia veramente perplessissimo è quel 75 di freddezza signori perché 75 di freddezza su una carta che andiamo a pagare 600 mila crediti anche no bene la resistenza per quanto riguarda invece i playstyle come vi dicevo abbiamo il teso plus il trickster plus che non ci importa poi abbiamo un buon tiro a giro una buona trivela il passo veloce il rapido e la calamita per un giudizio generale secondo me su questa carta che è scadente però perché io il consiglio che vi do è quello di non andarla a sbloccare perché ci sono 100 mila giocatori molto meglio di lei che costano meno o comunque che se costano di più valgono effettivamente il loro valore e non questa emp che secondo me è stata apprezzata molto male il momento che stavate tutti quanti aspettando però è quello di robert baggio perché questa sbc era nell'aria se ne era parlato negli scorsi giorni 500 mila crediti il prezzo un metro e 74 5 skill 4 piede debole piede preferito destro stile di corsa esplosivo anche per lui la problematica di baggio da questa schermata non è tanto stelle skill e piede debole perché ovviamente in quel caso è un rapporto d'elite però non lo vedete ma lo potete andare a riscontrare su foot bin sto baggio c'ha un body type unique che in teoria dovrebbe essere il body type che gli si addice maggiormente perché dovrebbe essere il suo unico fatto sul modello di quello che era baggio nella realtà ma mi sa che hanno preso baggio in pensione perché sto baggio paradama tro re è basso tozzo sembra anche un po diciamo appesantito ecco dall'età quindi questo va un po a pregiudicare quelle che sono poi le sue statistiche di dribbling che andremo a vedere successivamente per la posizione abbiamo il cc e l'at per le nostre ibride mentre per quanto riguarda dettagli attributo abbiamo accelerazione 90 velocità scatto 85 un giocatore che diciamo non è proprio un fulmine di guerra palla al piede soprattutto con i doppi passi non è che si speed boosta granché invece bene visto che è explosive il primo controllo con il tasto della corsa da fermo lì prende un po di velocità potenza tiro 88 finalizzazione 88 tiro alla distanza 88 posizionamento attaccato 88 tutto 88 il tiro si sente perché in particolar modo davanti la porta segna tanto male invece sui tiri da fuori in particolar modo sui tiri a giro nonostante prendiate il verde e siate dalle zolle predefinite per quella conclusione lascia molto a desiderare passaggi anche in questo caso ottimi soprattutto il corto abbinato al playstyle plus del passaggio calibrato veramente top buono anche il passaggio lungo quindi il filtrante veniamo poi appunto alle statistiche di dribbling che vi dicevo in precedenza perché quell 81 di agilità quell 82 di equilibrio e quell 88 di reattività onestamente lo rendono un giocatore non proprio agilissimo palla al piede si muove meglio delle altre versioni di baggio però è ancora un vorrei ma non posso perché questo baggio vorrebbe fare quel salto quello step in più e andarsi a classificare nell'elite di giocatori che hanno quel tipo di controllo lì però purtroppo non lo fa ancora nonostante abbia comunque un 95 di controllo palla 94 di dribbling e 85 di freddezza bene la resistenza bene anche i playstyle vi dicevo perché oltre al calibrato abbiamo l'incisivo per cui vi dicevo bene i filtranti bellissimo il playstyle plus del tecnico perché qui andiamo a sfruttare il suo stile fisico perché con l'l2 scusatemi con l'r1 r2 a seconda dei vostri tasti corre con questo tecnico parecchio e in più essendo anche piazzato fisicamente avendo questo body type un po tozzo difende molto bene la palla quindi vi potete incuniare in area di rigore arrivare in zona pericolosa bene anche il rapido io gli ho messo come stile di intesa un motore per proprio per cercare di migliorare ulteriormente questa situazione relativa agilità ed equilibrio ma purtroppo senza successo diciamo che il costo è bene o male in linea con quello che può essere un giocatore di questo tipo con queste caratteristiche io lo giocherei solo ed esclusivamente da trequartista perché da mezz'ala magari in un 4 3 2 1 ve lo perdete completamente il mio consiglio è sbloccatevelo chiaramente se siete fan appassionati di questo baggio ma onestamente ancora una volta secondo me si è persa l'occasione di dare e rendere omaggio ad uno dei giocatori migliori se vogliamo comunque del panorama calcistico mondiale con una versione degna che purtroppo invece degna non è tantissimo ragazzi anche per questo video è tutto come al solito vi ricordo di lasciare un commento facendomi sapere quale di questi giocatori avete sbloccato o quali sbloccherete dopo aver visto la review sono in live poi tutti i giorni sulla piattaforma viola da mattina fino al primo pomeriggio io vi auguro una buona domenica un saluto nel vostro iberoschi e a presto ciao